Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Mattia99 e volevo dire una cosa bellissima il 21 agosto è il mio compleanno e per il mio compleanno voglio ordinare qualcosa da Amazon o da Ebay è meglio da Amazon perché a me piace ordinato da Amazon che c'è il 21 agosto scusate ragazzi è mia nonna che mi dice quando è il mio compleanno però il mio compleanno è il 21 agosto e per il mio compleanno posso ordinare qualcosa da Ebay o da Amazon vabbè ok ragazzi questo video è finito ci vediamo al prossimo video ciao